Ciao ragazzi, oggi voglio presentarvi un nuovissimo prodotto, Tecnic Heart di L'Oreal Professionel, volume lift. Che cos'è? Non è altro che una mousse, una mousse che ridona volume in maniera istantanea. Quindi basta agitare il prodotto, mettere il prodotto sul palmo della mano e direttamente sulla cute, direttamente sulla cute, un bel massaggio in maniera tale da creare comunque una piccola frizione, ok? E la schiuma lo donerà in maniera istantanea più volume, più sostegno alla nostra piega. E' importante non eccedere con la quantità del capello perché è molto molto concentrato, quindi pochissimo prodotto, lo si va applicare direttamente sulla cute del capello e poi in questo modo, ok? Pettinare i capelli e procedere con l'asciugatura. Usando questo prodotto la cute ritroverà immediatamente vitalità e anche il capello ovviamente ritroverà massima densità capillare, quindi massima corposità e quindi di conseguenza massima tenuta per una piega ovviamente voluminosa e sostenuta. Quindi se volete provare questo prodotto Tecnic Art Volume Lift, vi consiglio di farlo, è veramente accensionale. Ciao! 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 Ciao!